E' questo posto affiscio qui che dice che stasera c'è una vecchia con club Tavagna, chi è questo club? Ebbè c'è una casa, già sei giovani tutti si riuniscono. Sono una maggiore giovani che vogliono far vivere tutto ciò che è passato, tutti i tempi. Questi giovani si possono vire qui? Dù si possono trovare? Tutti ho club di Talasani. Un Talasani? Talasani. L'ho paesolo accanto? Ho paesolo accanto a 4 km. Piano piano ma gli dicerà Dice ci veremmo un nio guinni mu lo truerà Dice ci veremmo un nio guinni mu lo truerà In dell'unio di piume ghi ci nascerà In dell'unio di piume ghi ci nascerà Nasceranno la gelucci l'omparere ma contà Nasceranno la gelucci l'omparere ma contà E all'epoca qual era il vostro oggettivo se posso parlare così? Beh l'oggettivo è questa è la pratica di noi che mettono davanti. A principio a gente non volia più i giorni non volia più annoiarsi E poi dopo l'affari più o meno sono andato a Di Berelli A giocare ballò, a fare teatro, a cantare Che non c'erano i biolini, la chitaria, i mandorini Questo piano piano Significa che se insieme e poi altri vintavagna Avell'istessa storia, avell'istessi loghi Sei una bena ma Mica c'entuo in me C'ha un cesu una via Come te Mica una manacella Neon astruzza di a bre Grazie a tutti.